È stata una bella battaglia, siamo onesti, è stata una bella battaglia, una partita cattiva su certi punti di vista, loro menavano, noi menavamo, è un po' come affrontare la Roma, no? Cioè la Roma va affrontata in questa maniera qui, un arbitraggio che ha fatto cose, secondo me, senza senso da certi punti di vista, sia per loro sia per noi, perché Mancini va ammonito per il fallo su De Ketteler, palesemente, così come va ammonito con l'Aginac per altri falli, su Dybala ad esempio. Quello di Scamacca su Mancini per me non è volontario, perché i due sono anche amici, però è un brutto fallo, anche quello lì non è volontario, però insomma gli è andata nelle parti dove non batte il sole. Quindi non lo so, è stata una partita molto combattuta, ci si aspettava una battaglia, la battaglia è stata, il rigore per la Roma c'è, quindi almeno il mio sospetto di paure, di decisioni arbitrali che cambiassero il volto della partita non c'è stato, almeno da quel punto di vista lì. Quindi, ripeto, il gol di Scamacca, anche da zona non era proprio convintissimo che fosse fallo, obiettivamente è cascato un bel po' al tipo, però ragazzi, secondo me è un risultato che ci sta, è un risultato che ci sta per una bella partita. È stato un bel match, a me è piaciuto da parte di entrambe le squadre, si dice spesso e volentieri che la Roma giocava male, giocava male, giocava sempre bene. Quest'anno la Roma, secondo me, ha fatto diverse partite buone, anche a livello di attacco. La mia idea, la mia idea mi è piaciuta perché ha saputo lottare su ogni pallone, una battaglia fisica, ripeto, cose che mi sono piaciute meno ci sono state, sicuramente anche Di Bala che tira la palla a Coppa Miners, poi cosa gli avrà detto Coppa Miners, non lo so, però anche quello per me era un fallo d'amunizione. Viene espulso Mourinho alla fine, Gasperini anche lui litiga con l'arbitro, diciamo che, ripeto, l'arbitraggio non è stato sicuramente all'altezza, secondo me, ma per tutti, non sto dicendo che sia stato di parte, da una parte o dall'altra. Ha fatto errori un po' da tutte e due le parti, perché mancano cartellini di qua, mancano cartellini di là, ha dato cartellini tipo quello di Zappacosta che non c'era. Da segnalare, soprattutto, secondo me, l'ottima prova di Carnesecchi. Carnesecchi che, anche nel primo tempo, ci salva parecchio la garra, la testa. Un bel primo tempo dove passiamo in vantaggio, bell'assist di Miranciuk che però fa anche due errori grossolani rischiando di far fare gol alla Roma. Per fortuna non ne approfitta, ha fatto due errori in un retropassaggio, è una palla persa davvero velenosissima, Miranciuk che però non mi è dispiaciuto per il resto della partita. Però quelle due palle pesano abbastanza, bravo Carnesecchi su Lukaku e Bove, tra l'altro evita anche l'autogol di Ederson, Rui Patricio, poi nega il raddoppio De Ketterer. De Ketterer che a me non è piaciuto, però è anche vero che è stato menato da Mancini, più o meno per metà del primo tempo. Pareggia Dybala dal dischetto, un pareggio che, ripeto, secondo me è il risultato più giusto, è un risultato che ci sta. Dybala, tra l'altro, veramente nei suoi rigori è infallibile. Io sono contento del punto, sono onesto, tantissimi di voi mi avevano scritto finisce 1-1, finirà 1-1, io ci firmerei per l'1-1, anch'io. Obiettivamente, vista che poi sono successe anche cose, anche nel primo tempo, carambole in area, con palloni che escono, Carnesecchi che, ripeto, l'ha salvata più di una volta, secondo me è un punto d'oro, è un punto che ci sta, non è un punto rubato, assolutamente. Però io quando ho detto che il Bologna ha avuto una grossissima fortuna ad affrontare la Roma senza Dybala e Lukaku, è la verità, ragazzi, perché quei due giocatori lì... Poi, per carità, Lukaku spreca un pallone, per fortuna, veramente, per fortuna, un pallone d'oro, però, però, ragazzi, è stata, è stata una bella battaglia, è stata una bella battaglia, una battaglia che a me è piaciuta, ripeto, tante cose buone da segnalare, però, purtroppo, c'è da segnalare, soprattutto... Allora, Carnesecchi, ripeto, ci ha salvato la partita oggi, sicuramente, poi è stato bravo anche lui e Patricio in un'occasione con loro, come vi dicevo prima, però, ecco, l'errore di... Allora, Carnesecchi sbaglia l'uscita su quello che poi sarà il rigore procurato da Ruggeri ingenuamente, lì l'ha sbagliata, lì abbiamo rischiato veramente grosso, questo bisogna dirlo, perché come dice le cose buone, bisogna dire anche le cose cattive, Così come Ederson che spreca un pallone d'oro del possibile 2-1, però Ruggeri, ragazzi, fa una canocchia, perché lo sai che a Roma i rigori glieli danno anche quando non ci sono, figuratevi questo che c'è, fare fallo alla Roma in area è un po' da pirla, ecco, detto tra noi, e questo è quello che penso io. Era sicuramente una partita che chiunque delle due avesse vinto sarebbe stata tanta roba, visto i passi fassi di Fiorentina, di Bologna, del Napoli, e invece è una partita che purtroppo non premia nessuna delle due, però ripeto, secondo me il risultato è giusto. Bravi noi in tante occasioni, sia Coppiners che tante altre cose, non mi è piaciuto Scamacca, ragazzi, io purtroppo non riesco a farmelo piacere, io non so come dirvelo, per me abbiamo speso 30 milioni per un giocatore che ne vale 15, io, è la mia impressione, poi a fine anno fa 20 gol, monta, sei un coglione, benissimo, io mi prendo su e porto a casa, però a me Scamacca non è piaciuto neanche stasera, io ve lo dico, qui lo nego, è comunque veramente un ottimo carne secchi, mi fa veramente piacere, poi veramente ci sono stati i batti e ribatti, Carnesicchi che salva su Boville, Jim City che salva sulla linea, dove però purtroppo poi appunto dopo arriva l'errore di Ruggeri, nella ripresa entra Yen per noi verso la fine, e soprattutto Uilsen, o come cazzo si chiama, della Roma, questo giocatorino della Juve che davvero è un ottimo acquisto per la Roma, ragazzi, ha una personalità della Madonna sto ragazzino, entra in campo, si incazza che non gli danno la palla, sembra un veterano ed è una cosa, questa secondo me, che va segnalata e dispiace, sapete cosa, che la Roma ha dato la Juve a Cherubini, regalandoglielo praticamente, perché Cherubini è tanta roba, Yusen sicuramente è un ottimo innesto per la Roma, che però valorizza un giocatore per sei mesi, come ho detto nel video con Asso, come ha detto Asso giustamente, ancora non era sicuro, per poi ridarglielo pronto, ecco, questo sicuramente è un po' una mossa, però la Roma con i paletti che ha della FIFA, del fair play, eccetera, non può fare diversamente, ecco, sì, non avrei regalato Cherubini sicuramente, l'Atalanta crea, non gioca male, però ripeto, è una partita che secondo me ci sta, ci sta, dispiace per il gol annullato a Scamacca, che ripeto voglio un po' rivederlo, non sono così convinto che fosse da annullare, però non abbiamo protestato neanche troppo, quindi magari sono io che me lo sono andormito e vi chiedo veramente scusa. Dybala è un bel giocatore, ragazzi, è inutile, io quando ho detto che il Bologna non affrontarle, l'ho già detto prima, lo so, senza Lukaku Dybala ha avuto tanta fortuna, è vero, perché con Dybala e Lukaku in campo non lo so cosa avrebbe fatto il Bologna, senza cattiverie però, obiettivamente quella è una delle fortune che ha avuto il Bologna. Sono contento anche del sbaglio di Lukaku, che veramente calcia alle stelle un pallone che quello al 99% se lo prendeva bene, faceva gol, è un pareggio che a me, a dispetto, non mi dispiace, per come si era messa, per tutta una serie di cose, che poi come si era messa in realtà siamo passati in vantaggio noi, però ecco, dopo il rigore, dopo il fatto dei batti e ribatti, dei miracoli, dei carne secchi, io resto convinto che sia un risultato giusto. Ringrazio tutti quanti per aver visto questo video, ho detto la mia senza fare più di tanto telecronica della partita, perché secondo me la cosa giusta era dire il mio parere sul match in generale. I miei preferiti da una parte o dall'altra, sicuramente da noi, carne secchi e copminers, sicuramente, non mi è dispiaciuto Holm, contento che abbia giocato tanto, non mi è piaciuto Ruggeri, non mi è piaciuto molto CDK, ma non è colpa sua e mi è piaciuto pochissimo Scamacca, lo dico con tutto poi, giustamente voi nei commenti potete tranquillamente dire l'opposto. Non vi ho neanche salutato, vi saluto tutti, un benvenuto a tutti i romanisti, siete tanti, vi siete iscritti in tanti, spero che anche in questo video rimaniamo civili, è un pareggio che come diceva Asso nel pre-partita non faceva male a nessuno se pareggiavamo, eravamo tutti tranquilli, speriamo che rimanga tutto così. Detto questo, dispiace come sempre certe restrizioni per le tifoserie, perché purtroppo causa quella, oggi gli atlantini erano un centinaio e non di più. Detto questo, complimenti al pubblico romanista, perché è un sold out perenne in quello stadio, con un'atmosfera così, con la gente che canta l'inno e tutto. Io quando dico che la Roma in casa gioca in 12 è reale, è reale davvero. Detto questo, finiti i complimenti, vi invito a iscrivervi, date la campanella, metti i piaci, condividi a commentare. Sono soddisfatto, sono soddisfatto perché rispetto di altri tanti big match, stavolta per match la siamo giocata bene e forse, 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 con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto magari fare il 2-1, l'1-2, però va bene così, va bene, l'importante è non avere perso un altro scontro diretto. Ci vediamo alla prossima, ci aspetto una partita di Coppa Italia combattuta, domani uscirà il recap di Serie A, uscirà anche il pagellone del giornale d'andata, quindi vi aspetto numerosi, hashtag della fine battaglia, va bene? Battaglia, hashtag della fine battaglia, per chi è arrivato alla fine. Iscrivetevi al campanella, mettete i piaci, condividete, commentate, un abbraccio a tutti, buon inizio settimana e i romanisti non vi arrabbiate, io ho detto la mia, voi dite la vostra e anche voi atlantini sono curiosi a sapere cosa ne pensate perché tanto lo so che tanti non la pensano come me, ma a me va benissimo, l'importante è discuterne civilmente come abbiamo sempre fatto. Un gran benvenuto a tutti i nuovi, se ci saranno nuovi iscritti, commentate, scrivete chi siete, sono nuovi iscritti, ciao, tifo per il canicattì, a me va benissimo e vi saluto e rispondo sempre con piacere a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte, buona domenica e sempre solo, forza Dea! Ciao!